I tuoi superiori ti stanno condannando a morte senza motivo. Hai il diritto di disobbedire. Possiamo disobbedire agli ordini suicidi. Perché non me l'avete detto? Più o meno due volte al giorno. So quello che faccio il più delle volte, ma questo non è il caso dei superiori di Anaya. Sono un agente e so qual è il mio dovere. Mi hanno ordinato di trattenerla e lo farò, sempre che prima non riesca a liberarmi di lei.